Siamo qui a Cattolica, è un piacere per me essere qua con Nicoletta Olivieri, l'assessore al turismo di Cattolica. È una città incredibile che accoglie la Val Seriana e accoglie sempre i vergamaschi e per noi di Ardesio è un motivo di vanto questa amicizia nata con il paese di Cattolica e oggi stiamo facendo così uno scambio di doni, di brochure simbolico ma in programma c'è anche qualcosa di più negli anni a venire. C'è di più perché oggi sono felice di aver scoperto che in questa brochure non ci sono solamente delle immagini che illustrano la vostra zona ma c'è la possibilità di fare delle cose insieme. Da oggi nascerà una sinergia perché c'è un importante percorso tutto ciclabile che noi proporremo subito al nostro Velo Club che è molto attivo e poi ci sarà anche questo, mi puoi dare la... ecco perché anche questo è un dono che mi sta dando Simone è la borraccia con il percorso a piedi, gli 80 km da sviluppare in 6 giorni esatto, con tutti i rifugi, le varie tappe esatto e quindi potremmo mettere in comunicazione anche i nostri club del nordic walking e organizzare magari anche proprio per le associazioni di categoria sarebbe carino un piccolo pool ma al venire a conoscere le bellezze di Bergamo e poi andare a fare un itinerario, come ci hai fatto vedere lì dentro, con i vari rifugi dove... sul sentiero d'anello delle Orobie sul sentiero d'anello delle Orobie e poi consegnano anche il passaporto mi sembra assolutamente ecco una cosa molto carina ci siamo inventati, stiamo imparando anche noi a provare a fare un po' di turismo ma siete bravi perché da tanti anni io ce l'ho questo passaporto che si fa in Argentina per esempio ecco e quindi è bello che anche in Italia facciamo queste cose lo fanno anche sulla Via Francigena forse? assolutamente ecco quindi cominciare a collezionare passaporto specialmente ecco in una zona ancora forse non conosciutissima se non dai grandi appassionati assolutamente quindi lo portiamo magari un pochino più alla conoscenza di tutti e cominciamo a creare questo gemellaggio come noi abbiamo già con un'altra località e quindi mi piacerebbe veramente tanto, sono contenta, io faccio questo scambio di brochure grazie, grazie e invito gli amici della zona bergamasca a venire a Cattolica perché noi qui sappiamo accoglierli, comprendervi e farvi sentire veramente al sicuro e tutto relax e poi noi faremo questo scambio, verremo da voi e vogliamo trovare la stessa accoglienza e la stessa ospitalità ah sicuramente, sono sicura che così vedremo di essere bravi quanto voi dal sorriso di Simone, beh insomma la promessa è buona grazie mille, grazie grazie a te